Inter, Arnautovic sfida il Milan. Tutta la squadra è pronta, vogliamo assolutamente vincere. L'attaccante austriaco ha parlato in conferenza stampa nel ritiro dell'Austria in vista della sfida di martedì con la Svezia. Nel corso della conferenza stampa prima di Svezia-Austria. Gara di qualificazione a 2024 euro in programma martedì prossimo. Marco Arnautovic si è anche soffermato sul derby che attende la sua Inter alla ripresa del campionato sabato 16 settembre. Tutta la squadra è pronta, vogliamo assolutamente vincere. L'Inter ha raggiunto la finale di Champions League la scorsa stagione e guida la classifica della Serie A grazie a tre vittorie senza subire gol obiettivo e vincere titoli ogni anno. Ha aggiunto l'attaccante dell'Inter come riportato dal Kronen Zeitung. Abbiamo un'ottima squadra e siamo pronti a tutto. Quattro giorni dopo l'attesissimo derby di campionato, l'Inter inizierà la fase a gironi di Champions League con la trasferta contro la Real Sociedad. I duelli con il Salisburgo sono in programma il 24 ottobre, in casa, e l'8 novembre, in trasferta. E per Arnautovic si tratta delle prime sfide ufficiali contro un club austriaco a livello professionistico. Finora hanno sempre avuto paura di giocare contro i miei club, ha scherzato il bomber nerazzurro, Androla per vincere. Non per dare a bracci punto la distanza rispetto alla scorsa stagione si è certamente ridotta, ma oggi è ancora evidente esposta agli equilibri dalla parte di Inzaghi. Quadrado, Frattesi e Arnautovic, per citarne solo tre, sono cambi che il Milan non si può permettere e che tengono molto alto il livello tecnico della squadra. Pioli aspetta l'esplosione di Ciucquezze, ancora in ritardo, e ha visto i primi segnali di vita di Okafor nell'ultima parte di gara contro la Roma.